Grazie 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 Grazie. 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 Signor Presidente, signor Assessore, con me i consiglieri. Vede, noi siamo annusi concedere, come si può dire, per caso che non c'è l'Assessore che ha fatto il beneficio di verità, ossia noi non afferriamo il cuore indettorale di orna, per esempio. Abbiamo l'accortezza di approfondire e soprattutto di sfiscerare le problematiche che si approfondano nel Consiglio, così come le problematiche delineate alle giunte, e dal senso intendo che la Commissione Trasparenza, presenuta dal progetto a ZUMO, faccia un ottimo lavoro. Su questa vicenda che si è, lo vorrei voler essere propagato. assolutamente una questione politica. Non che si capisce più di quale elemento, soprattutto di quale popolazione, però comunque è stato salvato. C'è stata una volta risposta con il capitato della regione interessata, i residenti che hanno scritto, ma anzi che hanno avuto il capo, i tecnici che hanno contribuito. Allora, Presidente, la operazione è presente politica. E siccome il valore dell'umanistica, Presidente, lei è benissimo, ma noi siamo chiamati ad approvare delle privatizzazioni, delle varianti, ci mettiamo senza guardare, senza leggere, ai lavori della Commissione e soprattutto ai valori dell'edificio. Non siamo pronti di avere del bene. Quindi non è possibile che raggiunga l'assessore Milazzo solo perché il capo, il ministro di San Catalbo, non è d'accordo che si faccia questa caratteria, debba far imprimare l'amministrazione amministrativa del capo di setta, non si capisce da che cosa. Io mi rendo conto al assessore che lei è invadato. Per questo il problema di mole è che lei ha detto che lei è invadato a attivare quest'anno. Per quattro i tempi per la legge sarebbero costretti ad impugnarlo, ma per sorprendere il nostro Consiglio Comunale e a fare, per perdere, per il legibilità dedicata al soggetto che ha deliberato. se ne parlo, la materia urbanistica, la pianificazione del territorio, l'abbiamo più forte detto che il territorio collega per capire, è essenziva per la prima del Consiglio Comunale. e voi non potete assolutamente dare un altro indivizio in materia urbanistica all'Alias. Questo lo fa il Consiglio Comunale, il sindacalista per capire che le scorciatore che non pagano, le scorciatore che non recono, le scorciatore che non prendono. si pari, ci pari, ci pari in unità. Assessore Minazzo, che lo faccia presente, ha tirato dell'orto, parla di un parico, va giù per la prima del territorio urbanistica. E allora perché la variante che abbiamo, che si ha provato, rispetto alla zona con il genere vicino, l'area che mi rischia di controllare la terra con la comitazione che genera la prova del Consiglio Comunale. e allora hai detto proprio la prima del giunto, l'assessore Minazzo. Ma stiamo spiegando! Ma da me? Ma ha voluto passare alla storia per la giunta che tanti dici e non erano urbanistica. E allora ho fatto una domanda che ha messo il piede. Ha provato di morire da la confezione. Se mi chiami non potete dire che che il Consiglio Comunale è un organismo istituzionale di questi temi. E' un organismo istituzionale di questi temi. ma qualcuno ne lo può spiegare. Figlio, io non so più come spiegare. Se mi vuoi aiutare il Consiglio. Ti prego. perché? Magari, magari, magari sei proprio con questa mia che ha solo con il Papa Consiglio. Come vedete? E' un'altra cosa che fate. Ma io non so più come. E' fai loro. il Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale. Ci scondiamo. Abbiamo punti di vista diversi. Abbiamo momenti di situazione politica istituzionale diversi. Io, come del Consiglio Comunale, sull'altro che mi prevedevo questa mattina la stessa settimana in condizione, per esempio, in condizione, mi sono confrontato e l'attività che sono trovato con il Poderico. Perché Comunale la materia era ospita. perché anche lì abbiamo vissato un precedente. Abbiamo vissato sicuramente un atto che è stato difficile per essere dato, ma sarà sempre potuta interverrata in un progetto di Messina. E quindi costituziamo il precedente perché il sito è il Consiglio Comunale. Ora ne è nulla. Fissiamo il precedente perché la giunta, si permette di dare un articolizzo albanas. E poi queste bande, voglio capire, queste bande di cui si parla Grege e Geologo. Ma ci vuole dire a che cosa fanno il riferimento? Qual è tutta questa preoccupazione di andare a organizzare questa economia? Che cosa occupa un valorevole vagano? Deve sovrestare il tecnico comune. Che dovevano? Che dovevano? Che dovevano le licenze? Io sempre, io parlo sempre, posiziono benediativa solo, tecnico solo e soprattutto agisco in buona fede secondo il principio della diligenza dell'indipendente. Ma Assessore Rilasso, lei è un Assessore Rilasso, lei è un Assessore Rilasso. Ma com'è possibile che lei anche un po' fa portare all'altro della sua sensibilità un atto di un indiviso così grave? Allora, ha fatto le modi lucrati in quello che aveva descritto Assessore Rilasso. Grave è la violazione di un principio che interna le progative con il suo organismo. La violazione di un'indipendente in quello che è un Consiglio comunale. Ho credito che assicuro che anche questa violazione sarà inserita nella mozione di spiglucia. e tutte le delle azioni che ti dà mi faccio il pepino mi faccio il pepino cioè stiamo parlando di un altro indirizzo che è raggiunta a dare la vene pubblicistica che è un altro una prerogativa depositorale e mentre dice che la città è stata dire fatti con benissimo poi il fatto delle affermazioni quasi astaci vivo anche lì mi deve aiutare perché perché ha detto che parliamo il coraggio di rispondere la posizione di luce ma con il coraggio di la strada noi abbiamo, Presidente altro senso di responsabilità che cosa è diversa e non potremmo lasciare l'elite per poter riportare anche il mio bottegno amico felice che viene senza il finanzo consuntivo e senza il finanzo di organizzazione dei miei 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 opportunità di pescati ti assicuro o o c'è di meno la strategia dell'ex assessore paiglina o sempre la strategia dell'ex assessore paiglina la posizione è una segnale lo stesso questo consiglio ti assicuro che non ha bisogno di vendedori non ha bisogno di suggeritori e non ha bisogno comunque di chi cerca di salvare il nazionale che ormai ha fatto il palettone è un palettone il palettone è un palettone difficile il palettone è un palettone difficile ok che funziona può essere il palettone è un palettone difficile ma e quindi vogliamo dire che io vedo che anche chi debba intervenire debba intervenire e e dargli voce e sostegno in questa gravissima violazione e soprattutto e soprattutto e soprattutto ritengo che anche il governo di vista politico da un'altra stessa si sta lavorando in questa città a costruire organizzare le forze politiche presenti e forse il collega vi ha capito l'altra stessa la possibilità costituirà un rapporto politico perché vogliono questo città capito noi dobbiamo ragionanza non mettere da parte quella che è la prerogazione del pressocorro né con il piede né con la sinistra estrema però su casa di città noi dobbiamo avere un obiettivo preciso mandare questo città per questa amministrazione anche il Sessore di Lazio non è la possibilità ma il Sessore di Lazio e il Sessore di Lazio non è la possibilità quindi non è la possibilità morale della favola morale della favola ma come dice il collega posso dire che il testo tutto il bene perché è il testo però il Sessore di Lazio a parte questo questo momento eh come dire di islamalizzazione del lato politico o comunque della parte internazionale che ci approviamo a fare il sitale Assessore del lato Assessore del lato Assessore del lato Scusate posso con le braccia? Assessore del lato del lato le chiedo formalmente secondo la famiglia del collega la famiglia e se vogliamo anzi faremo la stessa condizione di ridinare l'amore dell'amore noi dimostriamo con genere di di non chiedereci scusate sto volando su questo lo vedo la famiglia da parte mia io non vi chiedo di chiedereci scusate mi perdoni la non vi chiedo la famiglia però Assessore del lato 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 Faccia del lato di riso in autortena perché come scribe Bobbi Lucena Presidente si importa la Bobbi Lucena quello che ha scritto nel lato è un po' lo scribe Bobbi Lucena bisogna distinguere l'atto di annullamento o di ripetito quindi noi non chiediamo di annullare quella roba noi chiediamo di ritare per come farà la commissione grazie grazie a te di che e che ha